Presente alla Fiera dell'Agricoltura di Lanciano, Leomar, un marchio 100% made in Italy, un'azienda leader di grande esperienza nel settore delle macchine operatrici e dei veicoli industriali. La Leomar da sempre rappresenta un esempio unico nel settore. Parliamo di automotive e quindi conosciamo la intesa per Leomar ZK SRL. Stiamo con l'amministratore unico Stefano Fiore. Leomar è sinonimo di affidabilità, sicurezza e qualità. Nasce nel 1959 a Poggio Fiorito in provincia di Chieti. All'inizio era una vera e propria macchina agricola. Veniva definita, chiamata, moto possibile. Non aveva neanche la cabina. Successivamente, apportando migliorie e innovazione al prodotto, è divenuta una vera e propria macchina industriale. I nostri clienti tipo sono imprese edili, cave e cantiere, municipalizzate. Siamo unici, unici nel nostro settore ad avere un veicolo del genere. Produciamo dei veicoli a sagoma compatta. La peculiarità è la larghezza di soli 160 cm con tre posti a bordo. In cabina troviamo sistemi elettronici avanzati che dialogano con l'utilizzatore e che semplificano il lavoro, come per esempio il navigatore, le telecamere posteriori e una centralina per l'interconnessione 4.0 FPT. I veicoli sono al 35, 60 e 75 quintali tre assi, che produciamo solo noi nel nostro segmento. Poi le macchine operatrici, 65 quintali e 80. Abbiamo due motorizzazioni principali FPT stradali Euro 6 e un motore dedicato alla macchina operatrice. versioni 4x2 e 4x4 in quattro passi differenti, più di 80 versioni. Il nostro 4x4 è il vero fiore all'occhiello, 6 marce più 4 ridotte integrali, riduttore prodotto da noi. Voglio ricordare che ponti, assali, cabina, lo chassis, tutto quello che concerne il veicolo è sul nostro disegno. Quali allestimenti si possono montare? Praticamente tutti, dal cassone allo scarrabile, piattaforme aeree, grudi ogni genere. Diciamo che il Leomar viene prodotto su misura, è come un vestito, viene prodotto su misura per il cliente. Il nostro camion, essendo di dimensioni ridotte, può accedere nei centri storici senza problemi. La versione tracker che abbiamo qui in fiera, in esposizione, può percorrere terreni estremi e, grazie al nostro riduttore, uscire da ogni problematica di terreno. Si parla tanto di rispetto per l'ambiente, voi come vi ponete di fronte a quello che è l'obiettivo di tutti? Già i nostri motori rispondono alle normative per l'emissione, ma stiamo già studiando per il futuro di inserire un motore ibrido, cioè termico e elettrico. Stefano Fiore le ha illustrato al meglio la sua azienda, ma come concludiamo? Concludiamo con il nostro slogan, scegli un Leomar. Scegli un Leomar Scegli un Leomar